benvenuti o bentornati sul mio canale youtube in occasione dell'anniversario della vittoria del 4 novembre della prima guerra mondiale ho pensato di ricordare le migliaia di caduti con questo video sul sacrario militare del colle leiten che si trova nella bella cittadina di asiago in provincia di vicenza progettato dall'architetto orfeo rosato in marmo bianco venne inaugurato da vittorio emanuele terzo il 17 luglio 1938 l'interno è percorso da corridoi dove sono distribuiti loculi dei resti dei caduti che convergono in una cappella ottagonale centrale con un altare nel sacrario sono custodite le salme di 33 mila italiani e di circa 20 mila austro-ungarici provenienti dai cimiteri di guerra dell'alto piano il mausoleo presenta una base quadrata di 80 metri di lato nei pressi dell'ingresso della cripta è stato allestito un bel museo con esposti molti cimeli raccolti sui campi di battaglia è visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 a Grazie a tutti.